A una settimana dall'approvazione definitiva della legge sul fine vita, cioè le dichiarazioni anticipate di trattamento, registriamo per la prima volta l'intervento sul tema da parte della Santa Sede. Le parole sono del Cardinale Segretario di Stato Vaticano. L'occasione è data da una visita pre-natalizia in una delle sedi, quella di Palidoro alle porte di Roma, dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. L'iniziativa è in agenda ieri sera, 100 disegni in mostra inviati dai bambini del mondo a Papa Francesco, e in favore dell'accoglienza dei piccoli pazienti in arrivo dall'estero per curarsi. L'ospedale Bambino Gesù solo negli ultimi due anni ha infatti provveduto a garantire le cure a oltre 100 piccoli ammalati provenienti da oltre 30 paesi diversi. E non si può dimenticare l'impegno offerto in prima linea, pur avendo sempre chiarito che mai sarebbero stati disposti a fare accanimento terapeutico, messo in campo quest'estate per il caso del piccolo Charlie Gard. Alla fine della serata, mentre i piccoli pazienti intonano i canti del Natale, il segretario di Stato risponde ad alcune domande dei giornalisti, fra le quali anche una sulla posizione delle strutture sanitarie cattoliche di fronte alla legge sul fine vita. Nel testo approvato non c'è nessuna possibilità per gli ospedali religiosi di fare obiezione di coscienza per così dire collettiva, cioè come strutture, ma molte, dal cottolenguo al gemelli passando per casa sollievo della sofferenza, si sono dette pronte a fare comunque obiezione. È dunque la risposta del Cardinale. Questa è una posizione legittima secondo lei? Io credo di sì. Io credo che uno dei punti, senza dare un giudizio globale, ma uno dei punti carenti appunto di questa legge è quella di prevedere per le persone, per i medici e gli operatori sanitari e per le istituzioni cattoliche la possibilità di fare l'obiezione di coscienza. Quindi mi pare normale che ci sia anche questa posizione.